Incontro istituzionale questa mattina presso il resort Borgo Ignazia di Savelletri. Di prestigio la presenza di Akasaka, sottosegretario ONU, accompagnato dall'onorevole Robert Astorino, presidente della regione Winchester dello Stato di New York. Hanno incontrato il sindaco Lello di Bari. I due ospiti sono in Puglia per alcune visite istituzionali. Un tour organizzato dalla Puglia Center of America, istituzione che promuove la Puglia negli Stati Uniti. Loro si tratterranno tre giorni qui nella nostra zona, poi ci sarà lunedì sera nel Salone della provincia di Bari la premiazione di un evento organizzato per primavera eccellenze pugliesi e quindi saremo ospiti della provincia. Ci dà l'opportunità, grazie alla Puglia Center of America, presieduta dal maestro Lamonarca, di promuovere il nostro territorio all'estero e abbiamo una delle persone più qualificate a fare questo. La presenza di sua eccellenza qui è proprio una stretta di mano fra Fasano e le Nazioni Unite proprio in prospettiva di poter avere questa maggiore visibilità negli Stati Uniti. Sono molto felice di essere qui, soprattutto in Fasano, ed è soprattutto entusiasta di partecipare al simposium che sarà svolto martedì presso l'Università Aldo Mono di Bari, dove il professor Petruccelli ha invitato personalmente il sottosegretario generale dell'ONU. Ovviamente c'è molto da fare in supporto allo sviluppo sostenibile, ovviamente mettere insieme il mondo accademico per poter fare in modo di trovare delle soluzioni per supportare lo sviluppo sostenibile. Affascinato dalla terra di Puglia, oasi di pace e di tranquillità. È tutto veramente così bello qui. È stato un piacere, una bellissima esperienza venire dall'aeroporto fino qui all'hotel Boro Egnazia in Fasano e guardare gli alberi d'olivo, nonché il paesaggio naturale. Sembra così forse irreale tutta questa pace qui attorno. Io vengo da New York, veramente alle Nazioni Unite, dove stiamo avendo a che fare con i problemi della Siria attualmente. e Libia, e venire qui sembrerebbe come avere un isolotto di pace.